Passata questa prima fase, questa vicenda ex legge Severino, con quali impegni riparte il suo operato amministrativo? Su cosa concentrerà l'attenzione della sua maggioranza? Non è mai cessato l'impegno, adesso è un momento importantissimo perché abbiamo messo in sicurezza lente da un punto di vista finanziario, quindi nel 2015 raccoglieremo parecchi frutti e credo si vedranno le cose migliori del tanto lavoro duro e complicato che abbiamo fatto in momenti molto difficili, quindi c'è un grande lavoro soprattutto per il miglioramento del decoro, della vivibilità e della qualità della nostra città. Questa è stata una grande vittoria di Napoli, un grande risultato mio personale, è una bella pagina della giustizia amministrativa del nostro paese. Tarre e Consiglio di Stato hanno affermato principi molto importanti, che la sovranità popolare prevale su altro, che quella sospensione del prefetto mi ha provocato un danno che poteva essere irreparabile, da questo punto di vista io credo una pagina importante anche tra autoritarismo e poteri democratici. Mettiamola in questo modo, quindi una bella pagina secondo me per il popolo, perché il popolo ha scelto il sindaco, il suo sindaco e c'è il diritto e dovere del sindaco di governare fino alla fine e di essere giudicato. Quindi credo che si apre un dibattito senza precedenti al nostro paese dopo questa decisione del Consiglio di Stato. La questione Bagnoli è centrale, noi impugneremo la norma su Bagnoli in diverse sedi giudiziarie e intraprenderemo azioni politiche importanti perché diciamo no al commissariamento e questa norma non può passare perché un esproprio della città di Napoli, del suo sindaco, del Consiglio Comunale è un fatto grave che apre la strada a una stagione di mani sulla città, io non lo consentirò in alcun modo e oggi siamo molto forti su questo punto perché la città ci chiede questo, onestà, trasparenza e bloccare operazioni speculative su Napoli e in particolare su Bagnoli. Quindi il governo Renzi rifletta perché noi non accetteremo nessun commissario su Bagnoli. Aderiamo e sosteniamo e siamo stati in piazza per questa iniziativa della FIOM a Napoli, di tutte le lavoratrici e i lavoratori del centro-sud a dimostrazione che Napoli può guidare un mezzogiorno di riscatto e non ci può essere riscatto senza diritti per le lavoratrici e i lavoratori e senza la dignità del lavoro. Quindi il governo deve guardare non in modo sprezzante alle piazze ma con grande rispetto e Napoli insomma sa scrivere pagine democratiche e proveremo a scriverle anche in confronto al governo anche su temi come il Job Act. Grazie a tutti.